Buonasera, questa sera il video l'avrei intitolato schiettamente la grande montagna di merda di Bibbiano. Anche se sembrerebbe forte quello che ho detto prima, riferendomi a Peppino Impastato quando diceva che la mafia fosse una montagna di merda. Bene, i fatti di Bibbiano ci porterebbero alle stesse conclusioni, ma è qualcosa di peggio, perché Bibbiano è una punta di un iceberg. Stasera io non voglio affrontare discorsi che partano dalla messa in discussione del partito di un sindaco, di uno o più comuni. Non voglio mettere in discussione la barbara logica del profitto e delle ruberie che si sono fatti sulla pelle di giovani creature, sulla disgrazia di famiglie. Non dovrebbero esistere famiglie povere in un paese normale. Noi dovremmo partire da questa considerazione, dall'enorme disparità che c'è tra una famiglia povera e chi ha tanto, perché c'è troppo spreco, troppo consumo, troppa disparità in questa forbice che si sta distaccando sempre di più tra chi è povero, chi non ha nulla, chi non ha lavoro, chi è costretto come i nostri giovani, anche laureati ad emigrare all'estero. 800.000 giovani hanno abbandonato negli ultimi anni il nostro paese. Ma torniamo al tema. Voglio invece portare l'accento sull'attacco all'uomo sapiens sapiens, che i poteri ordo liberi si stanno conducendo da qualche anno, forse questo già stava negli anni trenta quando c'erano i primi fenomeni, quello che sarebbe stato poi la ricerca della super razza e tutte le altre cose barbare del nazismo. Ma oggi il nazismo è cambiare, mutare genericamente gli esseri umani. Questa è una battaglia di civiltà. L'affare Bibbiano ha a che fare con una scelta campale, una scelta ideologica, un dramma profondo che ha a che fare con la distruzione della famiglia, non la famiglia etera. Ci può anche essere una famiglia con genitori che si separano dopo pochi anni. I costumi stanno cambiando, ma la famiglia comunque, anche allargata o quella che sia, rimane un'istituzione sociale. Ebbene questa istituzione sociale non è concessa di fatto in alcune zone d'Italia e in meno abbienti. Guardate che io ho fatto una ricerca, ma stiamo parlando di migliaia e migliaia di affidi strani, non per casi eccezionali. Andiamo a documentare le cose. ecco perché noi dobbiamo parlare, non per fare un bar dello sport tra chi è pro e contro. Per prima cosa noi dobbiamo chiedere la verità su tutto quello che succede. Dobbiamo respingere questo attacco barbaro alle nostre radici, al nostro futuro, alle nostre generazioni e alla famiglia. Noi italiani siamo un popolo mansueto, miete e laborioso, ma ci state facendo incazzare. Potrebbe darsi che nasca una rivoluzione di giustizia italiana, ma sarà una rivoluzione perché noi vogliamo perlomeno ritornare alle caratteristiche di vita di 50 anni fa, del 1973, di quando il grande storico Hobsbawm collocò la fine dell'età dell'oro. È possibile, siamo un paese ricco. L'articolo 1 della Costituzione fondata sul lavoro, la Repubblica italiana fondata sul lavoro deve dare lavoro dignitoso, servizi sociali dignitosi e proteggere la famiglia. Non ci devono essere famiglie povere, non si può allevare i bambini a delle famiglie per affidarli a noi, non si sa che cosa. Una famiglia è composta di un uomo e una donna, può finire, può andare avanti, può essere una famiglia allargata, ma è fatta di un uomo e di una donna. Ognuno è libero in questo paese di esercitare nel miglior di modi la propria affettività, la propria sessualità, ci mancherebbe altro. Lo dice una persona che ha sempre combattuto dalla parte dei lavoratori e dei diritti sociali dei più poveri e degli oppressi, anche dalla parte della vera Africa sfruttata, che non è l'accoglienza pelosa che diamo agli estacomunitari, perché pure gli immigrati sono ostaggio come i bambini di Bibiano o altre. In Africa dobbiamo lasciare in pace gli africani e non dobbiamo sfruttare quei continenti per tranne il coltano, il petrolio e altre cose. Questa è la verità che nessuna sinistra, che nessun sepolcro imbiancato vi dice. E qui dobbiamo creare una situazione sociale di welfare e garanzia per tutti. La distruzione della famiglia per creare le api operai o le formiche operai e non è solo l'ape regina oppure la famiglia soltanto per i più eletti. È un mondo disumano. Non scherzate con i sentimenti del popolo italiano e costruire la verità ne ha bisogno l'Italia, ne ha bisogno il paese. Anche per questo noi il 12 ottobre scenderemo in piazza per difendere il nostro paese, per difendere la nostra patria, per difendere il lavoro e il dettato costituzionale. italiani che la forza sia con voi.